Avevo perso tutto. Di che parliamo? Ho fatto un sogno. È qui che troveremo l'oro. Il premio Oscar Matthew McConaughey è seduto sulla più grande miniera d'oro del decennio. Parliamo di oltre 30 miliardi di dollari. La miniera Washoe è l'argomento del giorno. Wall Street ha trovato che cosa hai combinato? il suo prossimo lupo. Che lo volessimo, no, l'ascesa verso l'alto era cominciata. E che vertigini ci dava. Gold, la grande truffa, dal 4 maggio al cinema.